Riqualificazione e rigenerazione urbana, di questo si è parlato stamattina alla Mediateca Montanari di Fano, nell'ambito del progetto Foro Urbano, che già lo scorso 4 marzo ha rappresentato un'occasione unica di condivisione di idee tra cittadini e pubblica amministrazione per migliorare la città. L'assessore Marco Paolini ha individuato nel proprio intervento i punti strategici sui quali si sta già lavorando per costruire una Fano di tutti e per tutti, i luoghi da rivalorizzare, l'importanza del turismo e delle nuove tecnologie per una città ancora più a misura d'uomo, con particolare attenzione alla comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadini. Quanto è importante la partecipazione attiva e la formazione dei cittadini in questo progetto? Ma è importantissimo perché una città che mette a frutto le competenze, le culture diffuse, le conoscenze dei propri cittadini, è una città che fa un balzo in avanti. Abbiamo bisogno del concorso di tutti per disegnare questa Fano che vogliamo in un orizzonte che arriva e supera il 2030. Dal futuro ecosostenibile e tecnologico allo sport, passando per ferrovia e adeguamento sismico, un piano strategico ricco e ambizioso dove i veri protagonisti devono essere i cittadini.